Musica Questa deve essere la quarta notte in cui faccio lo stesso sogno. Un teatro, un palco, delle persone, la finale di FameLab. Eppure ogni volta c'è qualcosa di diverso a decorare l'ambiente. Il volto, il volto di quella signora in prima fila. Lei ieri sera non c'era, no, no, no. Il capotto del signore l'ha comprato nuovo? Ottimo stile, poi ne parliamo. Devo essere in quella fase del sonno in cui si ha davvero un'intensa attività onirica. La fase definita come REM, Rapid Eye Movement. Ecco, questa estrema rilassatezza neuromuscolare, un rapido movimento oculare ed un'intensa attività cerebrale quasi simile a quella che si ha durante lo stato di veia. Ecco, perché molti definiscono questa fase del sonno come sonno attivo o sonno paradosso. Questa fase è diversa. Aspetta, quella che ho attraversato ieri sera quando mi stavo addormentando, quando ho abbracciato il mio cuscino, quando la muscolatura si rilassa, la temperatura corporea scende, il battito cardiaco rallenta, i movimenti oculari sono davvero lenti e così anche le onde cerebrali. La fase non REM, pensate, le onde cerebrali sono lente di un herzo, un'oscillazione al secondo. Ebbene, dopo 70-90 minuti della fase REM, non REM, si passa alla fase REM. Ed ecco che l'alternarsi di 4-5 volte della fase REM e della fase non REM durante la notte portano la durata complessiva del sonno di otto ore. Il sonno ristoratore. Bei tempi, bei tempi, quelli in cui io riuscivo a dormire otto ore. Ad oggi una, due ore. Il medico mi dice, lei soffre di insonnia, si prende una tisana e vedrà che Morfeo la prenderà tra le sue braccia. Ma quale tisana, quale tisana. Melissa, Passiflora, Valeriana, Lupolo, Camomilla. E dopo aver contato tutte le pecore, finisco per fare un trattato filosofico con il pastore. Ed è così che ho iniziato un nuovo percorso, la teoria cognitivo-comportamentale, secondo la quale, modificando il mio stile di vita, nel tempo riuscirò sempre meglio a dormire. Devo dire che qualche risultato lo sto avendo. Ma allora, perché è così importante dormire? Beh, considerate che tutti noi spendiamo un terzo della nostra vita dormendo. Ed anche tutti gli invertebrati dormono, una funzione deve pure averla. Ad oggi l'ipotesi più accreditata è l'ipotesi di Chiara Cirelli e Giulio Tononi, secondo i quali, ipotesi dell'omeostasi sinaptica, durante il giorno le nostre sinapsi si potenziano sempre di più. E queste, durante la notte, devono tornare a un livello energetico sostenibile. Scusate, ma quante luci, ma siamo davvero a FameLab questa sera? Scusate, perché effettivamente questa è la finale, ragazzi! Sono davvero a FameLab. Grazie. Grazie. Grazie a tutti